In occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale della vista, che ogni anno ricorre il secondo giovedì di ottobre, l'Ausla Toscana Sud-Est promuove in collaborazione con l'Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti una serie di iniziative che mirano ad informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione. Sono oltre 20 anni che organizziamo la giornata della vista, mettiamo a disposizione di tutta la cittadinanza delle visite gratuite a cui tutti possono accedere. Chiaramente preghiamo coloro che sono già in terapia e che quindi hanno già fatto delle visite oculistiche negli ultimi due anni di astenersi dal prendere appuntamenti perché giustamente queste sono visite dedicate alla prevenzione a chi non ha avuto occasione o chi non ha pensato di sottoporsi ad una visita oculistica. È molto importante perché fare questa prevenzione, come voi potete capire, è la pedina principale per risolvere poi i problemi futuri della vita. Basta telefonare al CUPTEL e di conseguenza si prenota la visita e viene data direttamente l'appuntamento. La partecipazione della città di Arezzo, come ogni anno, auspichiamo che sia davvero ampia. Certamente è un'occasione importante, come è stato detto, un'occasione importante che qualifica il nostro impegno soprattutto nell'ambito collaborativo con la nostra ASD. Sono tantissimi anni che facciamo queste giornate di prevenzione ed è veramente importante perché è anche un'occasione per creare la nostra personale sensibilità rispetto alle opportunità che possiamo dare, sia come prevenzione ma anche come intervento con la donazione di strumentazioni per appunto la prevenzione. E questo rappresenta un ambito importante e anche quest'anno tra tante difficoltà, però con molta determinazione vogliamo anche donare uno strumento per le valutazioni corneali che sicuramente sarà utile al nostro ospedale. Una delle due occasioni più importanti dell'anno di prevenzione, ce n'è una ad ottobre e una a marzo nella quale noi come Unione Italiana dei Ciechi e degli Epovedenti siamo pienamente attivi adesso tramite anche una rinnovata collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Ciccità e ci fa decisamente piacere avere l'opportunità di fare prevenzione da parte di chi la vista purtroppo non ce l'ha o in alcuni casi è molto carente e ci sembra importante che proprio l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Epovedenti sia in prima linea per fare prevenzione.